In Italia ci sono tante mancanze, mancanza di giustizia, mancanza di lavoro. Come la politica può superire a queste mancanze? Mettendo a disposizione le risorse per chi non ha sufficienza per arrivare a fine mese, per esempio, fatti concreti come questo signore, aiutare chi è in queste condizioni. Questa è la cosa principale oggi, in un momento di crisi. Noi siamo impegnati a farlo, abbiamo trovato tanti soldi per riuscire a sopperire a questi bisogni. Lei è venuto tante volte al meeting, cosa la colpisce ogni volta che viene qui? Il calore, la partecipazione, l'entusiasmo che trovo sempre e tanti giovani. Ogni anno sempre tanti giovani vuol dire che è una cosa che funziona, che attira i giovani e quindi è una cosa che ha futuro. Complimenti al meeting.